ben trovati amici telespettatori di cilento channel oggi cilento focus è in compagnia dell'associazione spirito francescano di agropoli perché il 5 di gennaio ci sarà un evento importante e con loro con gli amici che adesso vi presenterò lo racconteremo e vi spiegheremo che cosa accadrà quel giorno e allora andiamo per ordine a partire dalla mia sinistra il professore antonio capano archeologo nonché componente dell'associazione spirito francescano ben trovato a fianco germano rizzo il presidente dell'associazione spirito francescano di agropoli ben trovato germano buonasera non sei nuovo nei nostri studi più volte ci sempre con le fortune che continuano di cilento channel grazie a seguire mimmo jacomino socio dell'associazione ben trovato per non non per la prima volta qui nei nostri studi spesso anche ti abbiamo già incontrato ma poi ne parleremo santino miglino socio dell'associazione nonché vicepresidente e poi l'amico rosario capozzolo presidente avis agropoli e socio dell'associazione spirito francescano e allora andiamo subito ben trovati allora amici andiamo subito a informare i nostri telespettatori che ci seguono da casa di questo evento che verrà vedrà padre enzo fortunato ospite dell'associazione nonché ospite di agropoli padre enzo fortunato si occupa della comunicazione di san francesco d'assisi giusto germano correggimi se sbaglio la voce di assisi la voce di assisi che che bella frase direi che allora lo ospitiamo il 5 come associazione faremo un incontro nell'aula consigliare del comune di agropoli parliamone insieme per informare meglio i nostri telespettatori di questa iniziativa innanzitutto buonasera a te cilento channel e agli spettatori di e cilento channel io ringrazio cilento channel come l'ho sempre ringraziato perché nel passato ci ha sempre accompagnato nelle nostre cose più importanti ricordo per tutte la nostra trasferta a roma quando abbiamo incontrato papa francesco e poi fatto un reportage molto completo di quella giornata e ti ringraziamo di questo e ti ringrazieremo sempre per tutto quello che farà per portare alla nostra città e di portare il nostro messaggio che da cinque anni a questa parte è il messaggio di affermare nella nostra città la tradizione della presenza di san francisco da groga perché fino a qualche anno fa forse prima che noi cominciassimo questa nostra questo nostro impegno se si era sempre pensato a di questa quest'evento di questo passaggio di questa presenza se ne parlava sempre come una leggenda mentre lui grazie al professore dottor antonio capano alle sue ricerche siamo arrivati ad oggi ad avere non dico quasi la certezza che sia storia ma ci siamo molto vicini tornando all'evento per cui siamo qui è la diretta conseguenza della nostra andata ad assisi voi sapete tu sai che il 3 il 4 ottobre ad assisi c'è stata tutta la campania tutte le parrocchie rappresentate una rappresentanza nutrita di sindaci la presenza del cardinale sepe del nostro disco ciro miniero del sindaco della città di napoli e del governatore della campania quindi è stata l'occasione ad assisi di almeno per me di conoscere una una terra fantastica la terra di francesco e di e dico una cosa che l'ho detto anche gli amici quando stavo la io mi sentivo a casa mia è stata una sensazione strana particolare che era la prima volta che ci andavo e in genere quando uno va in un posto la prima volta un po si sente strano io non ho avvertito queste stranetà mi sentivo a casa mia il richiamo della fede come si suol dire sicuramente però è stata una sensazione che io ho detto agli amici e lo dico anche qua ad assisi abbiamo avuto l'opportunità di contattare padre fortunato ed è stato un incontro fucace perché in quel momento stava entrando nella basilica superiore per la cerimonia finale noi già l'avevamo contattato per la verità nel qualche anno fa doveva essere ad agropoli quando presentammo il libro frate francesco ad agropoli e lui aveva dato l'assenza a venire poi successero le fasi del terremoto e lui non potesse venire in questa occasione gli abbiamo rinnovato l'invito a venire ad agropoli e lui l'ha accettato dopo scambi di informazioni e abbiamo fissato questa data e non nascondo che è una grossa soddisfazione per noi come associazione avere ad agropoli la voce ufficiale di assisi è un timbro che ci rende orgogliosi e quindi invitiamo i cittadini non solo di agropoli ad essere presente in quella serata in quella serata si presenterà il suo ultimo libro francesco il ribello per chi l'ha letto come me è un ulteriore messaggio che ci viene da assisi ma da frate francesco bene professore capano allora lei ha fatto delle ricerche no sulla presenza di san francesco ad agropoli ci può spiegare nel dettaglio ecco che cosa ha riscontrato per dire appunto che effettivamente il santo è stato qui si è confermata negli ultimi anni una tradizione che non era acclarata nel luogo sia in agropoli che ovviamente nel cilento perché si sapeva però non è mai stato citato direttamente della testimonianza di pietro rodolfo da tossignano che scrisse nel 1586 un'opera importantissima si trova in originale presso la biblioteca nazionale di napoli ha avuto chi è il privilegio di leggerla di consultarla lui vescovo di due diocesi storico dell'ordine francescano che in un rigo sintetizza il locus di agropoli cioè il luogo che è anche la località dove si trovavano appunto i frati che certamente francesco visitò perché era in continua viaggiare lui perché lui predicava sempre il viaggio a piedi tra l'altro e lì ad agropo dice pietro adolfo d'ossignano c'è la scopulus lo scoglio da cui san francesco praticò i pesci quella la prima testimonianza fondamentale e si riferisce ovviamente insieme agli annali dell'ordine al 1222 ma la cosa ancora più importante che mi è capitato di riscontrare è la tradizione calabrese di cui non c'è traccia nella letteratura del cilento e di agropoli ovviamente che è appunto narra dell'incontro ad agropoli di santaniele fasanella con san francesco nel 1219 e proprio il prossimo anno sarà la celebrazione degli 800 anni dalla presenza di san francesco ad agropoli relazione alla tradizione appunto calabrese poi queste celebrazioni continueranno ovviamente fino al mille al al 2000 successivamente in relazione appunto al primo all'incontro più acclarato del 1222 lunedì in albis in cui appunto lo stesso francesco d'assisi cercò di divulgare la parola del signore agli abitanti di agropoli che per il loro passato lungo diciamo insieme ai musulmani non ne recepirono così come avvenne anche per sant'antonio suo grande amico grande punto uomo di chiesa e docente anche nelle università per cui ripiegò poiché per lui non era il luogo diciamo ogni luogo non era il luogo di eccellenza il luogo specifico lui poteva predicare dovunque alle creature perché dio e dovunque per lui lasciò il borgo andò appunto presso quel montollo dove si trova l'attuale l'ex convento scendendo di là appunto salì sullo scoglio da cui predicò a quelle creature in quel caso appunto ai pesci e questo ci inorgoglisce è motivo anche per un turismo religioso prossimo futuro tanto insomma desiderato anche dall'amministrazione comunale germano giusto che vorrebbe in un certo senso investire in questo da palazzo di città ai qualche notizia in merito insomma si stanno muovendo vi stanno dando una mano per divulgare appunto il la parola di di francesco ma soprattutto per sfruttare anche se è un termine sbagliato dire sfruttare però in realtà utilizzare no il turismo religioso è comunque un indotto per la città quindi come come insomma si stanno lavorando in merito a questo mi dai l'opportunità per dire che già con il sindaco alfiri ex sindaco e con l'attuale sindaco coppola loro sono stati da sempre molto vicini alla nostra alla nostra iniziative perché hanno subito creduto nel progetto che noi avevamo presentato nell'aula consiglia del comune ai primi subito dopo la fondazione infatti noi c'eravamo a documentare il tutto quindi non non posso che non ringraziarli fortemente e continuano a darci il loro contributo e credono molto a questo progetto nella finalità che tu esprimevi e che a qualcuno forse può dar fastidio ma è un'occasione un'opportunità importante per agrope per chi come me non era stato ad assisi e ha visto quella 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 città meravigliosa piena di gente piena di gente di altri posti questo fa pensare quando sia forte la fede per quel santo e quando sia forte la nostra devozione per quel santo che è stato ad agrope e soprattutto anche la vostra abnegazione nel continuare nonostante l'abbiamo detto prima anche qualcuno che fosse insomma contrario alla vostra iniziativa non vedo per quale ragione probabilmente per invidia ecco appunto voi nonostante tutto questo andate avanti Mimmo Iacomino napoletano d'origine ma affezionatissimo ad agropoli sette anni qui giusto già sette anni e due giorni è importante sette anni e due giorni ad agropoli e anche ex già presidente dei lions di agropoli giusto e ora anche in questa associazione per quale motivo ma diciamo che sono stato sono stato sono entrato in questa associazione ma veramente in una maniera così semplice così trasportato da qualche cosa che precedentemente non avevo probabilmente sarà la forza dei componenti che ho trovato tipo germano rizzo il presidente tipo antonio capano tipo don santino di agropoli sarebbe l'amico santino mi dico è che sia chiaro e rosario l'hai dimenticato rosario è venuto dopo di me ah ecco ah giusto poi ne parlavi però poi io sono il penultimo perché dopo di me normalmente ci sta il presidente dell'avisto il cavaliero rosario capozzolo ecco va bene e quindi poi dopo anche lui di da qualcosa sono convinto che questa associazione che sia partita così in sordina piano piano nel giro di cinque anni possa anche eventualmente pensare a quel famoso circuito religioso turistico bene sicuramente si farà assolutamente sì allora santino miglino vicepresidente dell'associazione io ho avuto l'onore di conoscerlo anche e già nella visita a papa francesco forse ormai quattro anni fa cinque anni fa cinque anni fa santino lo conoscerete pure tantissimi di voi che ci seguite anche ex amministratore di agropoli ma una persona squisita direi e perché hai aderito a questa iniziativa santino giusto grazie per le parole che hai detto nei miei confronti che forse anche merito perché ho aderito perché dal primo momento per la verità io ho creduto in questo progetto in questa iniziativa anche se all'inizio cinque anni fa quando siamo partiti eravamo in pochi a credere che un giorno potevamo venire qua a ribadire e ad ammettere che non si tratta più di leggenda ma di una vera tradizione che si avvicina alla realtà alla storia e questa è una cosa che ci inorgoglisce inorgoglisce e ci va ci dà la forza per continuare per arrivare un giorno a realizzare il nostro progetto che è quello di vedere il papo francesco ad agropoli e noi ve lo auguriamo certamente io colore che mi conoscono sa che io preferisco le azioni alle parole preferisco agire più che parlare per cui non mi non mi prolungo e non mi rimane che ringraziare tutti e sperando che tutta la cittadina di europoli incomincia a partecipare attivamente a questa iniziativa che potrebbe servire un poco a tutti un domani grazie grazie rosario capozzolo ultimo arrivato ma non ultimo perché lo conosciamo insomma ma dico io con tanti problemi che hai nell'avis e impegni anche l'impegno dell'associazione spirito francescano non è cosa da poco quindi che cosa ti ha attratto anche a te stessa domanda insomma sarà il gruppo sarà lo spirito la fede che cos'è indubbiamente sono poi le persone quelle che ti portano a fare le cose io mi voglio complimentare prima di tutti voglio complimentarmi con il presidente con il dottore capani che stanno portando avanti questo questo progetto io anche se sono l'ultimo arrivato sono stato anche a roma quando siamo andati dal pado forse germane si ricordo siamo stati lì c'era anche mia figlia è stata una bella cerimonia e anche io mi auguro che di riuscire a portare qui papa francesco io già ne parlo in giro ieri a bello sguardo abbiamo c'è stato hanno fatto un presepio bellissimo te ne parlai anche mi hai portato le immagini un filmino si beh hanno riprodotto piazza san pietro ne parlavo con gli amici a bello sguardo diceva così così stiamo facendo questo progetto sì ma veramente se ci riuscite io me lo auguro anche perché e come dicevo prima ci sono il nostro presidente e il dottore camani che c'è ce la stanno mettendo tutta veramente stanno facendo un lavoro straordinario l'avis l'avis e cerca di essere presente dappertutto perché poi l'avis e lavora per tutti fa un lavoro di 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 un'emergenza che io ho definita nell'ultima festa che abbiamo fatto un farmaco che non si trova in farmacia in effetti cerchiamo di reperire un farmaco che non esiste in farmacia e lo abbiamo tutti noi però tante e tante persone non riceviscono questo messaggio mi auguro come ho detto prima che questa l'associazione dello spirito francescano riesca a fare sempre meglio io assieme a te sono già stato nei tuoi studi altre volte siamo cresciuti insieme lei si è diventata una bella realtà tu sei diventato quello che sei e mi auguro che l'associazione ha scritto francescano riesca a fare e raggiungere tutti i suoi obiettivi grazie per le belle parole germano come avete impostato l'incontro del 5 ripetiamolo di gennaio alle ore 17 giusto aula consigliare del comune di agropoli e non solo verrà padre enzo fortunato ma ci saranno anche altri ospiti li vogliamo elencare sì la serata sarà svolta nella maniera più semplice possibile senza nessun appesantimento ci saranno i saluti dell'associazione del sindaco del nostro presidente onorario che avvocato franco alfiri del delegato alla cultura francesco crispino poi ci saranno gli interventi moderati dal dottore capano interventi di don carlo pisani parroco di agropoli della chiesa madre san pietre paura della chiesa di san francesco dell'intervento di padre bocchicchio che ministro provinciale è già presidente e già ministro provinciale ed è storico dell'ordine francescano che sempre con entusiasmo ci accompagna nelle nostre iniziative poi ci sarà l'intervento di padre antonello arundine padre guardiano del convento di lustra e con l'intervento di don bruno lancuba responsabile culturale della diocesi di valle della lucani che anche lui ci accompagna con entusiasmo e da forza al nostro progetto ed è uno di quelli e lo dico che spesso ci domanda quando metteremo la croce luminosa è un'opportunità anche per i nostri telespettatori se possiamo dare una notizia adesso germano magari la croce luminosa c'è stato un momento in cui c'è stata un'interruzione nella fase perché il progettista aveva dei problemi di riorganizzazione aziendale per cui sembra che nel prossimo anno in questo anno procederà al discorso della progettazione della messa in opera sempre con la collaborazione dell'amministrazione è di quando vorranno collaborare con noi a questa opera e devo dire che io sono testimone diretto di questo ritardo perché la persona che dovrebbe effettuare appunto i lavori per la realizzazione della croce sullo scoglio di san francesco mi è assolutamente vicina per questioni di parentele posso dire che effettivamente è in ritardo dipeso da una riorganizzazione aziendale che ha portato via tempo e quindi per quest'anno arriverà la nostra fatidica croce sullo scoglio di san francesco e in quell'occasione germano rizzo nel dietro le quinte mi diceva che forse ecco c'era un invito particolare ci sarebbe stato sì siccome l'anno prossimo in quest'anno dico l'anno prossimo questo nuovo che è arrivato insomma ci dobbiamo ancora abituare al 2019 questo anno sarà anche un anno importantissimo non solo per l'associazione ma per la città di Agropoli perché sarà l'anno delle celebrazioni degli 800 anni dall'incontro di San Daniele con San Francesco e quindi nel corso di quest'anno stiamo preparando predisponendo d'accordo con Carlo Pisani con la diocesi con il comune delle iniziative mirate sull'evento e nel discorso che facciamo prima della croce se si realizzano i tempi giusti sarà l'occasione importante da parte nostra di invitare Papa Francesco perché i rapporti di comunicazione con la Santa Sede sono migliorati tramite diverse persone che ci danno conforto sono in continua ascesa bene bene dai noi abbiamo fede e crediamo che anche questo fatto importantissimo possa avvenire sarà la volta buona me lo auguro per tutti noi perché avere la presenza del Santo Padre ad Agropoli significa davvero un evento eccezionale il professore Capano voleva aggiungere qualcosa prima di chiudere magari sì certamente noi siamo orgogliosi tra l'altro dopo il viaggio ad Assisi che è stato per noi molto edificante e di aver letto proprio sulla rivista ufficiale della voce appunto di Assisi il riferimento preciso a questa tradizione dell'incontro di San Daniele Fasanella con San Francesco è la foto dello scoglio con la cruce di Agropoli in primo piano appunto sulla rivista è la prima attenzione concreta che ci rivolge per noi è un passo in avanti nel nostro umile ma costante e fermo incedere tra l'altro mi fa piacere che venga qui il padre Fortunato perché lui di scala sulla costiera amalfitana è un centro molto importante sul medioevo vicino a Ravello non distante da Amalfi dove appunto la tradizione della presenza di San Francesco è molto forte è un viaggio che noi come rappresentanza abbiamo fatto in questi due centri importantissimi guidati da uno dei maggiori storici della costiera del professore Gargano e poi dal direttore per quanto riguarda il Ravello del museo di Oceano di Ravello ci hanno confortati in questo senso e non dobbiamo dimenticare appunto due aspetti ancora per il nostro programma il primo già realizzato è quello della della mostra della professoressa San Giugli che è stata inaugurata presso il castello di Agropoli e che è rappresentato veramente un primo contatto con la vera arte espressiva della grafica dove veramente l'incontro tra San Daniele e San Francesco è stato reso in modo suggestivo ed efficace oltre appunto ad altri episodi della presenza di San Francesco mentre resta ancora appunto da realizzare un nostro sogno che è quello della messa a regime della statua di San Francesco sulla collina di Agropoli in base alla cui promozione già si firmò a suo tempo un atto di cessione tra la diocesi di Capaccio e il comune di Agropoli che è preso in carico diciamo con molta fermezza questo importante obiettivo di valorizzare quell'area col sito appunto di San Francesco che svetta su questa alta base e che è un riferimento già oggi fisico speriamo quanto prima anche di fede per tutti coloro che verranno a visitare Agropoli non dobbiamo dimenticare prima di chiudere Germano che le attività dell'Associazione Spirito Francescano insomma sono frequenti non da ultimo avete presentato il calendario del 2019 hai nelle mani un bel testo dedicato appunto a San Francesco il titolo Francesco Frate Francesco ad Agropoli è una tradizione che continua se me lo passi lo facciamo inquadrare meglio con la camera in primo piano vedete eccolo qui alle mie spalle il sito la pagina Facebook dedicata appunto all'Associazione tante iniziative che insomma portano sicuramente alto il nome dell'Associazione sicuramente l'ultima iniziativa che abbiamo presentato nel Comune di Agropoli insieme al Sindaco, al nostro Presidente Orari, ai rappresentanti della stampa e ai soci è stato il calendario che è stato il frutto di un lavoro di quest'ultimo anno passato racchiude il bilancio? racchiude un bilancio dell'anno trascorso trascorso tra iniziative importanti che sono elencate nel calendario che mi piacerebbe non dico adesso ma quando vuoi di sfogliarlo di farlo vedere ai nostri concittadini perché volesse poi averlo basta che ci telefoni all'Associazione e noi faremo in modo di farglielo avere gratuitamente l'ultima cosa che volevo dire come ho detto prima sarà l'anno questo anno delle celebrazioni degli 800 anni ci sarà anche un'iniziativa che ci è stato rubato tra virgolette diciamo così dal Sindaco che ha avuto l'idea di voler portare da Agropoli un quadro che sta nel convento di Belvedere Marittimo il cui titolo è Miracolo di San Francesco d'Agropoli quadro che è stato dipinto se non ricordo male perché io con le date a differenza del professor non vado d'accordo beh lui è uno storico dipinto nel 1725 da un Gualtieri da Normanno se ricorda? si si da Normanno, un calabrese quindi è un ulteriore passaggio ad Agropoli in quell'iniziativa di un documento importante che sta a Belvedere Marittimo in un convento francescano che porteremo in mostra ad Agropoli quindi un ulteriore documento che attesta la presenza avvenuta ad Agropoli di frate Francesco bene, allora per quanto riguarda l'incontro con gli amici dell'Associazione Spirito Francescano è tutto io vi aspetto il 5 di gennaio alle ore 17 presso l'Aula Consigliare del Comune di Agropoli ringrazio il professore Antonio Capano Germano Rizzo, Mimmo Iacomino Santino Miglino e Rosario Capozzolo arrivederci